Musica Vedete andare nella zona nera ragazzi Noi facciamo anche la missione Di trovare l'ingresso della zona nera Che Non siamo andati l'altra volta Non c'era ancora la missione Avevamo fatto la missione Principale E quindi non ci aveva sbloccato questa Ok Entriamo nella zona contaminata Trasmissioni disturbate Solo comunicazioni a corto raggio Attenzione Corrente interrotta Backup attivato Sistema rianviato Che seguo questi Attenzione Ingresso nella zona nera Ma non mi facciano fuori No Non mi seguono neanche Qua c'è qualcosa Uh è gli NPC ragazzi Ne ho tolto degli NPC Nella zona oscura Via E questi sono Bastardi Intanto mettono anche le torrette Sti pezzi di merda Merda Ho tolto una cifra di vita Sto pezzo di merda Luri Eh vabbè Barclay Qui è un boss Tant'altro Mette anche queste cazzo Di torrette Di merda Serve una mano No Uh l'ho fatto fuori Quello mi ha dato un cazzo Perchè? Ok Cazzo però sta arma qua è veramente forte Mi sa che era meglio usare subito questa Ok ok Uh ecco qua mi ha dato qualcosa Niente di eccezionale però Niente male Andiamo alla zona destrazione Stanno inseguendo Porca merda No Sono i nemici Via Ci sono Dei nemici qua ragazzi Via C'è gente poco raccomandabile Ai Ce l'abbiamo fatta ragazzi Pronti a trainarlo a bordo Ah ma erano NPC quelli Non erano altri giocatori Minchia Mi ha fatto prendere male per niente Ok Ok dai Ce l'abbiamo fatta Per Estrarre Gli oggetti Portali via Bravo Bravo Riuscita 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 Riuscita